Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze per lavori ci sono due chilometri di coda tra Montelupo e Ginestra e due chilometri di coda tra Ginestra e Lastra-Signa, rallentamenti anche in direzione e mare tra Lastra e Ginestra. Sulla A1 chiuso per lavori il tratto tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 del 23 dicembre. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero a causa di un crollo della strada chiuso il tratto tra Borgo Ambozzano e Bagni di Lucca. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!